Prende il via l'iniziativa La Spesa che fa bene Iperal per il sociale, che parte con la raccolta delle candidature di organizzazioni di volontariato per il 2022. L'attività benefica, promossa da Iperal con la fondazione AGMB Tirelli Onlus, si svolgerà nei prossimi mesi di marzo e aprile. Il monte premi salirà a 285 mila euro da distribuire fra le 230 associazioni di volontariato che saranno selezionate a partecipare secondo graduatorie per ogni bacino territoriale, stilate tenendo conto delle preferenze che verranno espresse dai clienti e assegnando un contributo a tutte le realtà. Il contest è dedicato alle associazioni di volontariato non lucrative, di utilità sociale e agli enti del terzo settore operanti nei territori dove Iperal è presente con i propri supermercati. Le candidature sono aperte fino al 20 febbraio sul sito www.iperalperilsociale.it. Iperal per il sociale vuole premiare le associazioni che si impegnano per gli altri, sottolinea il responsabile comunicazione di Iperal, Alessandro Pizzen, ma anche dare visibilità e valore all'opera che svolgono nelle nostre comunità locali.